Ciao e bentornato. Prima di addentrarci nel mondo della fusione delle immagini facciamo un po' di pratica con i concetti che abbiamo appena analizzato, quindi le maschere di luminosità e le maschere di livello, quindi come funziona praticamente Photoshop. Quindi abbiamo un'immagine, questa volta in formato RAW attraverso questo programma e automaticamente l'immagine viene aperta con un programma affine che è collegato a Photoshop che viene chiamato Camera RAW. Quindi in questo video vediamo il mio flusso di lavoro quando si parla di post produzione in Photoshop in una fotografia singola. Successivamente attraverso un bonus nel nostro corso Lightroom vedrai anche il mio flusso di lavoro per quanto riguarda questo programma. Camera RAW è del tutto simile a Lightroom, quindi diviso in pannelli e possiamo agire praticamente su tutte le componenti della fotografia. Attraverso il profilo base, temperatura e tinta possiamo andare andare a cambiare la componente della tonalità. Quindi in questo caso una fotografia fatta all'alba possiamo cambiare tonalità e portarla più sull'arancione e ugualmente a me piacciono le tonalità tendenti al viola possiamo aumentare anche un po' la tinta. In questi due slider semplicemente cambia l'aspetto cromatico della nostra foto. Con l'isola dei sottostanti invece possiamo andare a cambiare la luminosità della scena. Facciamo comunque dei cambiamenti molto lievi perché poi il grosso dei cambiamenti lo faremo con il programma Photoshop e con le maschere di luminosità. Comunque abbassiamo un pochettino la luminosità delle luci. Un'operazione che nella fotografia di paesaggio si fa abbastanza spesso per migliorare un pochettino il cielo. Poi possiamo aprire un po' i bianchi e un pochettino le ombre. Aumentare ancora un pochettino l'esposizione visto che abbiamo diminuito le luci. Tech su chiarezza e rimozione foschia servono per i dettagli ma adesso non ci interessa ma potremmo farlo magari dopo. Possiamo dare un po' di vividezza e poi possiamo agire generalmente io agisco sull'ottica quindi rimuovi la verazione cromatica e usa correzioni del profilo e conosce automaticamente l'obiettivo che ho utilizzato poi si può agire sulla distorsione o in più o in meno adesso va bene o sulla vignettatura. In questo caso direi che ha fatto una buona correzione del profilo. Una volta fatta l'ottica poi possiamo passare ai dettagli. La nitidezza generalmente la porto al minimo. Apri con la mascheratura dove mi interessa quindi in questo caso solo nelle rocce. L'agio dei dettagli possiamo lasciarlo così. La riduzione del disturbo possiamo portarla al minimo e comunque non abbiamo molto rumore digitale. Ok questi sono i cambiamenti che faccio generalmente in Canon Raw prima di lavorare una fotografia in Photoshop quindi è visto veramente minimo. Quindi apriamo e si apre una fotografia come livello in Photoshop. Adesso che abbiamo la nostra fotografia su Photoshop possiamo lavorare con le maschere di luminosità. La fotografia non è cambiata molto rispetto all'originale ma adesso grazie alle maschere di luminosità possiamo andare ad agire su ogni singola zona ovviamente avendo bene chiaramente quello che vogliamo ottenere da questa immagine. Adesso occupiamoci principalmente del cielo cercando di togliere quella componente bianca di bruciatura, di attenuarla comunque all'interno del cielo e attiviamo le nostre maschere di luminosità. Quindi cosa facciamo? Andiamo su regolazioni. Qua c'è tutte le regolazioni che possiamo fare, luminosità, contrasto, valori di curve, esposizione. Per esempio attiviamo questa, ci clicchiamo sopra e abbiamo i nostri slider in cui possiamo vedere abbassare l'esposizione e viene abbassato ovviamente a tutta la fotografia o aumentata a tutta l'immagine perché la maschera è bianca. Ora vediamo semplicemente concentrandoci su quella parte del cielo un livello di esposizione che può andarci bene, per esempio questo, non ti preoccupare del resto. Vai poi qui sulla maschera, tasto destro, eliminiamo la maschera di livello, andiamo su panel, attiviamo le nostre maschere per le luci e andiamo successivamente a scegliere una maschera che vada bene per la nostra fotografia, quindi per quello che abbiamo in mente, quindi che vada a mascherare il cielo, ma non tutto il cielo, solo quella piccola porzione. Quindi sarà una maschera sicuramente più ristretta della 1, andiamo già alla 5, a 4 così, a 5, direi che possiamo tranquillamente concentrarci sulla 5. Una volta scelta la maschera la applichiamo, Apple Mask, clicchiamo e automaticamente il nostro effetto viene applicato solo in quella zona, vedi che se noi andiamo a cliccare sull'occhiolino viene applicato principalmente in quella zona, comunque solo a livello del cielo. Non è ancora abbastato, quindi possiamo fare un'altra modifica, andiamo in regolazioni, luminosità e contrasto per esempio, vediamo anche questo, ugualmente abbassiamo la luminosità andando a vedere solo con la posizione del cielo, per esempio così, il contrasto lo lasciamo un attimo perdere, eliminiamo la maschera, riattiviamo le maschere di luminosità da Leasy Panel, per le luci sempre, e andiamo a scegliere questa volta una maschera magari un po' più ampia, tipo una 4 o una 3, facciamo una 4 in modo tale che vada a gire principalmente sul cielo. Apple Mask ed ecco qua, e anche la nostra luminosità viene applicata principalmente in quella posizione, rispetto all'immagine iniziale abbiamo già migliorato questa posizione, ovviamente possiamo andare a gire successivamente di nuovo abbassare ancora la luminosità o l'esposizione in base al nostro gusto, o com'è comunque la fotografia. Calcola comunque che questa fotografia è sbagliata in fase di scatto perché comunque questa zona bruciata non andrà recuperata in post produzione. In realtà proprio sbagliata non è perché questa fotografia fa parte di una serie di fotografie di tre scatti che poi verranno fusi per realizzare un'unica fotografia, una tecnica che poi vedremo dopo e quindi questa sovraesposizione dovuta essenzialmente per recuperare tutta la zona delle rocce. però comunque la fotografia che abbiamo ci aiuta a mente di migliorarla attraverso le maschere di luminosità. Quindi abbiamo detto che più o meno il cielo può andare bene, più di tanto non possiamo migliorarlo. Adesso una volta che abbiamo fatto queste modifiche usiamo questa combinazione di tasti Command o Control a seconda del sistema operativo, Option maiuscolo E, e vedi che appare un nuovo livello. Questo livello contiene tutte le modifiche che abbiamo fatto precedentemente. Infatti vedi che se torniamo l'occhiolino è uguale a quello sotto. Adesso che abbiamo questo nuovo livello possiamo fare altre modifiche quindi andiamo per esempio a lavorare di nuovo in Camera Raw. Filtro, filtro Camera Raw. Adesso facciamo delle modifiche un po' più pesanti rispetto a prima guardando sempre il cielo. Quindi abbassiamo un pochettino ancora le luci, un po' l'esposizione, i bianchi possiamo aumentare un po' per dare un po' di luminosità. Possiamo cambiare ancora un po' la tonalità, aumentare magari la saturazione o provare con la vividezza per vedere se viene un effetto migliore. Direi che più o meno può andare bene. Possiamo anche lavorare sulle curve per dare un po' di contrasto guardando sempre il cielo perché comunque adesso poi andremo a mascherare. Diamo l'ok una volta che siamo soddisfatti del risultato. Ok e adesso andiamo ad applicare la nostra maschera di luminosità. Quindi luci su Easy Panel e andiamo a scegliere una maschera intermedia, una cosa del genere. Una 3 direi che può andare bene. Applichiamo la maschera ed ecco qua. In questo caso abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo dato un bel po' di colore al cielo. Questa macchia qua, come abbiamo detto prima, non si può migliorare più di tanto. Ora che abbiamo fatto queste modifiche riduplichiamo tutto, Command o Control a seconda di sistema operativo, Option maiuscolo e possiamo agire di nuovo in Camera Raw guardando in questo caso le rocce, quindi filtro, filtro Camera Raw e facciamo le nostre modifiche guardando solo le componenti terrestri. Quindi aumentiamo un pochettino le luci, volendo anche l'esposizione, un po' i bianchi e le ombre per dare bene risalto a questa zona. Un po' di texture, chiarezza per aumentare il dettaglio di questa zona. Direi che anche in questo caso più o meno abbiamo fatto. Vediamo un po' la curva per dare un po' di contrasto. Poi qua come ti dirò sempre entra gioco il gusto personale e anche così può andare bene. Una volta fatte le nostre modifiche che siamo a posto diamo l'Ok e questa volta dobbiamo applicare la mascheratura per le ombre e andiamo a cercare, come abbiamo fatto per le luci, una mascheratura che vada bene per il fatto che vogliamo applicare. Quindi solo sulle rocce. Direi una 3 già può andare bene. Una 4, facciamo una 3. Direi che può andare molto bene. O volendo anche una 2, diamo un po' di luminosità all'acqua. Vediamo come viene. Quindi applichiamo la maschera ed ecco qua. Le nostre modifiche sono applicate solo alle rocce e un pochettino anche alla componente acquatica. Non al cielo che abbiamo escluso dalla nostra mascheratura. Vedi come è facile alla fine cambiare il volto nelle nostre fotografie attraverso le maschere di luminosità. Facile e soprattutto molto efficace, molto dettagliato, perché puoi spezzettare le tue zone in infinite porzioni. E con queste modifiche la nostra immagine già è cambiata parecchio. Guarda come era inizialmente e guarda come adesso. Ci abbiamo messo veramente poco. Poi ovviamente possiamo applicare tutte le regolazioni che vogliamo attraverso il menu qua oppure anche attraverso queste maschere. Per esempio una sharp and full size, quindi aumenta il dettaglio di tutta l'immagine. Generalmente lascio valori che sono indicati lì, do l'ok e vedi che è un effetto che comunque è molto evidente e soprattutto applicato a tutta la fotografia. Una cosa che noi non vogliamo. Quindi andiamo a cancellare la nostra maschera, tasto destro, elimina la maschera di livello e applichiamo una maschera di nuovo per le ombre. E possiamo scegliere una 3 in modo tale che vada ad influire di nuovo su tutte le rocce e un po' la componente acquatica ma in maniera molto relativa. Applichiamo la maschera. Una volta applicata la nostra maschera possiamo comunque andare a decidere anche la densità di questa maschera e scegliere il grado di dettaglio e anche la sfumatura. Direi che così può andare abbastanza bene. Guardate che fotografia abbiamo tirato fuori e poi si può continuare comunque all'infinito ovviamente. Mettiamo per esempio un livello di regolazione sempre dopo aver duplicato i nostri livelli mettiamo vividezza e possiamo andare ad influire di nuovo sulla sotturazione a livello generale oppure sulla vividezza a livello generale. Anche in questo caso per esempio è applicato a tutta l'immagine e non ci piace più di tanto. Possiamo invece che andare attraverso le mascherature applicare direttamente un piccolo pennellino nero di dimensioni adeguate con un flusso magari un po' minore, un'opacità un po' minore e cancellare per esempio l'effetto qua sul mare che non mi piace molto. Quindi nella maschera compare un po' di nero e viene cancellato tutto l'effetto qua sull'acqua. Adesso sto andando molto a caso ma giusto per farti capire anche come si può agire senza applicare la maschera di luminosità e utilizzando semplicemente la maschera di livello. Ovviamente poi bisogna essere sempre molto fini e molto precisi se no rimangono degli alone e degli altri fatti dove si capisce chiaramente che l'immagine è stata post prodotta e anche male. Così più o meno ci siamo giusto farti capire come funzionava e vi abbiamo tolto la nostra componente di questo livello di regolazione della vividezza dal mare. Con queste ultime regolazioni questa lezione volge al termine penso tu abbia capito l'importanza delle maschere di luminosità e soprattutto come utilizzarle per migliorare i tuoi scatti. Nel prossimo video vedremo ancora un esempio di post produzione ma non ti preoccupare che le maschere di luminosità le useremo per tutte le lezioni future, quindi avrai modo di approfondire e sperimentare nel corso di queste lezioni. Ci vediamo nel prossimo video.